Da venerdì lo stato di emergenza per la frana campana che isola il grande Salento dal resto del mondo. Venerdì anche il sit-in dei sindaci di Taranto e Bari, del presidente della provincia di Brindisi che vorrebbero incontrare il governo, ma il governo arriverà il giorno dopo con Guido Bertolaso che si recherà sui luoghi della frana sabato. Dunque non si incontreranno messaggi a distanza, strategie diverse per affrontare il problema. Benvenga comunque la mobilitazione di tutti. Una strategia però per risolvere il problema da subito ci sarebbe, una mossa intelligente ma una mossa anche fisiologica. Se siamo grande Salento allora perché non far partire il treno che da Taranto va a Roma e ce ne sono tantissimi? Basta andare sul sito di Trenitalia www.trenitalia.it per vedere che ci sono decine di treni che ogni giorno, Eurostar, Eurostar Superfast, freccia d'argento e frecce di vari colori, raggiungono Roma in poco più di 5 ore, poco meno di 6 ore e questo è il tempo. Ed allora perché non farne partire alcuni da Lecce, alcuni da Brindisi per fare Lecce-Taranto-Roma oppure Brindisi-Taranto-Roma o addirittura Lecce-Brindisi-Taranto-Roma. Se siamo grande Salento veniamoci incontro da tutti i punti di vista e allora l'appello come ha fatto già il senatore Costi a tutti i parlamentari ma anche a tutti i presidenti delle province, a tutti i sindaci di scrivere immediatamente a Moretti, scrivere immediatamente a Trenitalia perché in attesa della situazione definitiva la situazione transitoria è quella della collaborazione fra i territori, una soluzione che può venire dal basso per far sì che tutti, dalla gente che ha bisogno di recarsi a Roma per lavoro, a chi vuole recarsi a Roma per vacanza ma anche ai disabili, per cui un vero e proprio diritto quello di doversi recare a Roma senza il passaggio vergognoso della triangolazione Lecce-Bologna-Roma possa tramutarsi subito in soluzione concreta. Lecce-Taranto-Roma è questa la soluzione immediata altrimenti franiamo e ci perdiamo in un bicchier d'acqua in attesa della soluzione definitiva. Grazie